Vi accusano di aver dimenticato nel programma di governo il pacchetto antimafia. Cosa risponde a questa provocazione? Ma non è assolutamente così. Per noi il discorso della legalità è un concetto molto più ampio, riguarda la riorganizzazione della giustizia, la riorganizzazione delle forze dell'ordine, la semplificazione burocratica, le regole che devono far sì che l'economia sia un'economia sana e controllata e che vada a favorire quelli che sono gli operatori economici seri a dispetto di quelli che non sono operatori economici ma che sono dei malavitosi. Quindi dal nostro punto di vista è un progetto ampio. Chi usa il termine pacchetto antimafia lo usa per lanciare uno slogan e lancia uno slogan perché non è capace di realizzare un progetto complessivo di legalità per il Paese. Nel nostro Paese, per contrastare eventuali fenomeni malavitosi, serviranno strutture particolari o potenziare gli organismi già esistenti? Il problema delle infiltrazioni malavitose è un problema che riguarda un po' tutti i Paesi e quindi anche San Marino non è esente. Diversi interventi sono stati apportati sia sul piano normativo che anche con l'istituzione di alcuni organismi. Questi interventi sono stati ritenuti efficaci anche da parte del procuratore antimafia Grasso che è venuto in visita dal San Marino qualche mese fa. Un altro aspetto che dimostra questa particolare attenzione è stata l'istituzione della Commissione antimafia preseduta anche da un nostro rappresentante del PDCS il quale ha svolto un lavoro significativo e importante che oggi è stato trasmesso poi agli organismi competenti per le ulteriori valutazioni e approfondimenti. La riforma fiscale che non è stata ancora portata a termine tutelera più la famiglia o le entrate per lo Stato? E qui la sfida è proprio di rispondere ad entrambi perché da un lato sicuramente c'è un problema di consolidamento delle entrate dello Stato che vogliamo portare avanti attraverso un meccanismo che non veda l'inalzamento delle aliquote quindi della pressione fiscale ma che veda l'allargamento della base imponibile cioè che paghino coloro che non hanno mai pagato o hanno pagato male senza che per questo ci sia un aumento della pressione fiscale. Questo consente anche una maggiore attenzione alla famiglia perché nella formulazione che è stata fatta c'è un'ipotesi nella quale le politiche sociali diventano maggiormente accentuate perché la famiglia ha la possibilità di gestire un po' anche la propria tassazione attraverso forme di deducibilità e attraverso forme di riconoscimento del carico familiare quindi ci sarà una differenziazione tra coloro che hanno un carico familiare importante e coloro che questo carico non ce l'hanno quindi è un'impresa, una sfida forte che è quella di mantenere una fiscalità leggera possibile e considerata virtuosa nel momento in cui avviene in un clima di trasparenza. Io credo che la prima vera ragione è la serietà, la consapevolezza di quello che si fa e il gruppo di persone che sono in grado di poter risolvere i problemi del paese quindi questo è il primo fattore il fattore umano, il fattore dell'esperienza il fattore della consapevolezza del momento storico in cui il nostro paese è vivo. Il secondo punto è il fattore stabilità del governo e della tenuta dei rapporti fra le parti sociali e le forze economiche la democrazia cristiana è un partito che rappresenta un collegamento forte e stabile con la società civile il terzo punto qualificante dal mio punto di vista è il rapporto che il partito ha con la vicina Italia con la famiglia del Partito Popolare Europeo con la famiglia dei partiti moderati di tutto il mondo questo è un valore di stabilità, di tenuta del sistema e di collegamento del sistema che dal mio punto di vista è determinante per la soluzione dei nostri problemi e quindi credo che quel ragazzo abbia più speranza con chi sa come condurre il nostro paese e quindi credo che sia come condurre il nostro paese